E' una scelta scellerata quella di andare in Arabia Saudita. Sostanzialmente stiamo partecipando a una gigantesca operazione di marketing da parte del regime saudita che tenta di ripulirsi l'immagine in occidente e quindi tenta di far dimenticare la costante violazione dei diritti umani. Un calcio ai diritti umani lo ha dato chi ha deciso di organizzare la supercoppa di calcio in Arabia Saudita. Questo ripetono le organizzazioni che hanno protestato contro il governo saudita davanti all'ambasciata a Roma. Vuol far dimenticare la storia di Khashoggi ucciso, trucidato in un consolato saudita. In non Turchia vuole far dimenticare le migliaia di dissidenti che sono in carcere. Questi soldi sauditi hanno messo in movimento una grande lavatrice della reputazione di questo paese oscurando la situazione dei diritti umani. Lo sport proprio per difendere l'autonomia deve anche saper dire di no, come in questo caso. Non è stato fatto, ha prevalso la logica del business e non è possibile che il gioco più bello del mondo diventi un piano inclinato. Bisogna saper dire no. Al presidio anche una delegazione della Sardegna per denunciare che in una fabbrica vicino Cagliari vengono prodotte ed esportate armi in Arabia Saudita. Si può avere un altro lavoro, lo stiamo dicendo a quei lavoratori. Siamo andati lì con dei sacerdoti, con il Vangelo in mano a dire a quei lavoratori guardate che il lavoro deve dare vita, non deve dare morte.